Ben tornati, ben tornati sul canale, siamo nell'antivigilia della partita dell'Inter con il Monza e finalmente si torna a parlare di campo, si torna a parlare di quello che piace di più, di quello che ci alletta di più, il campo, l'Inter torna a giocare domenica, ore 20 e 45, buon venerdì a tutti, ho dimenticato l'augurio, buon venerdì a tutti, monitoraggio, grazie grazie di aver risolto l'arcano, purtroppo quando arrivi cotto, escono anche le nefandezze più totali, non ricordo nemmeno cosa avevo detto, monitorazione, monitoraggio, monitoraggio. Si parla di campo, ieri c'è stata la proiezione, la prima del film della seconda stella, chiaramente qui in semiterronia, possiamo dire, qui in semiterronia, ancora non arriva, dovrebbe arrivare il 19, quindi fra una settimana, peraltro nemmeno qui dove abito io, che è proprio nell'entroterra abruzzese, ma arriverà chiaramente alla costa, arriva dalle parti di Pescara, e quindi andremo a vedere, compatibilmente con le sorprese, con gli impegni a sorpresa, andremo a vedere comunque questo sforzo cinematografico, arrivato peraltro correttamente, tra la fine della passata stagione e questa qui, mentre il film sul Napoli è arrivato col Napoli che già aveva abdicato allo scudetto, per le solite lungaggini dovute alle masturbazioni cerebrali del presidente De Laurentiis, ma vabbè. E' stata una bella serata, quelle ieri hanno parlato in tanti, dichiarazioni molto molto interessanti di Lautaro, di Marotta, di Inzaghi, soprattutto quelle di Lautaro mi sono piaciute perché ha già piazzato lì, è bello che è chiaro l'obiettivo di continuare su questo andazzo, e devo dire che quest'Inter che va avanti sul solco della solidità, sul solco di quello che è stato fatto bene negli anni passati, mi ricordo un po' quando invece l'Inter era dall'altra parte, che cambiava in maniera anche forzennata un po' tutto ogni anno, ripartiva da zero pensando di migliorarsi e poi invece trovava squadre che sulla carta non avevano fatto nulla o quasi sul mercato e invece che bastonavano. E' chiaro che poi c'erano degli inserti anche extracampo, però stare da quest'altra parte ormai da un po' di tempo, dobbiamo essere sinceri, ci si sta comodi, come direbbe Liga V, ci si sta comodi in questi vestiti. Sì, comincia ad essere un po' più freschetto dalle parti mie, quando esci la mattina, insomma, quando esci la mattina presto, te devi, te devi coprire, te devi coprire. Ma va bene, va benissimo così. Campo, dicevamo, Monza Inter ore 20 e 45 domenica, lo U Power Stadium, questi nomi orribili, belli nomi di prima, non mi chiamate Boomer, ma è semplicemente lo stadio, è simbolico, è un contenitore di emozioni, e chiamare con lo sponsor è veramente la mercificazione pure del sentimento. Male, 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 ma vabbè, faremo l'abitudine anche a questo, prima o poi. Sempre poi che prima, direbbe qualcuno. Inzaghi va verso un massiccio turnover, almeno questo è quello che anche se oggi è venerdì si continua a leggere, si continua a intercettare da piano, perché di solito sapete com'è, no? Giornata di campionato, riposo lunedì, martedì si comincia ancora a parlare poco della giornata successiva, tra il mercoledì e il giovedì, grande turnover, Inzaghi cambia quello, cambia quell'altro, è il venerdì, ma forse ci ripensa, arriva il sabato, no, ci ha ripensato dentro gli stessi, domenica tutto confermato, come la settimana prima. Ecco, stavolta siamo arrivati a venerdì e resiste ancora qualche cambio, quindi vuol dire che qualcosa bolle in pentola veramente. Cosa starà cucinando il demone di Piacenza, no? Per citare il nostro amico della pagina, giornamenti quotidiani, perché dobbiamo essere sempre corretti, ormai tutti quanti parlano di cosa sta cucinando il demone, ecco, bisogna sempre ricondurre all'origine. Cosa sta cucinando? Cucina che Pavar è rimasto a Milano in questa sosta, e quindi secondo me ha buone possibilità di partire dall'inizio, considerando Juric come avversario, e considerando che pure Acerbi è rimasto a Milano, io credo che Acerbi possa giocare dall'inizio, e forse Centro-Sinistra, Braccetto di Sinistra, tutti questi che odiano, è Braccetto, ma che? Ecco, invece sotto l'aspetto del linguaggio io sono molto avanguardista. Il linguaggio è un mezzo che si usa per farsi capire, e non è che deve essere bello stilisticamente. Braccetto è De Gustibus, perché ce l'avete col termine Braccetto? Oddio, ripilante, ma perché? Invece rende bene l'idea, ti fa proprio pensare a quello che è, quindi non ci vedo proprio nulla di male. Quindi Braccetto di Sinistra, poi possiamo chiamarlo Terzino, perché in effetti divisa 3 per carità, ottobre. Però lo capite, no? Quando io dico Braccetto a cosa mi riferisco? È al terzo di una divisa 3, quindi vuol dire che va benissimo così. Braccetto di Sinistra, più Carlos Augusto che Bastoni, a mio modo di vedere, Bastoni viene da diversi minuti accumulati con la nazionale, Carlos Augusto è rimasto in Italia, quindi il primo cambio sulla tipica formazione potrebbe essere Carlos Augusto per Bastoni. A sinistra di Marco a quel punto, perché se poi gioca a Bastoni allora riposa di Marco e gioca a Carlos Augusto. Carlos Augusto credo che sarà titolare, poi al posto di Bastoni, al posto di Marco, credo più al posto di Bastoni, così. Anche considerando le caratteristiche dell'avversario. A destra, Dumfries si è fatto due partite titolari con l'Olanda, Darmian invece è stato esentato da Spalletti e credo ormai sia lui che gli Acerbi abbiano chiuso la nazionale, quindi ancora Darmian. Ancora Darmian a destra. E magari Dumfries pensa al City, panorama europeo, partita fisica di dispendio, forse lì è meglio Dumfries. Poi, a centrocampo, frattesi dato da tutti come titolare, e io invece vi dico che non lo so, perché sia Mkhitaryan che Barella, il paradosso è questo, che frattesi che all'Inter è riserva, in nazionale e titolare, segna vince, e però nel frattempo i titolari dell'Inter sono rimasti da piano. Quindi non mi stupirei la conferma di Barella e Mkhitaryan. Sicuramente non si rinuncerà a Mkhitaryan, questo è per se ho capito un po' come è fatto Inzaghi. Magari Barella che viene dall'operazione al Naso, potrebbe effettivamente lasciare il posto a frattesi. Non penso a Gelischi dall'inizio, perché anche lui è andato comunque in nazionale. Il vero punto interrogativo è la situazione Ciala, perché Ciala è stato gestito dalla Turchia, e non sta proprio evidentemente al masso, per quella situazione ai rotatori dell'Anca, così nell'ultima partita con l'Atalanta. È anche vero che Aslani viene da 180 minuti, con l'Albania, quindi anche lì bisogna un po' capire. bisogna un po' capire bene. Infine in attacco, si dà per scontato una maia per Turam, e qui sono sostanzialmente d'accordo, perché ha giocato poco con la Francia, e invece che nell'Inter è un fattore. Lautaro potrebbe essere, sì, esentato almeno dalla maglia titolare, quindi partirà dalla panchina, e ballottaggio Taremi-Arnautovic. Arnautovic ha giocato meno, Taremi volo intercontinentali, diamo un 1% in più a Arnautovic, ma non mi stupirebbe affatto vedere Taremi dall'inizio, anzi, diciamo che la logica dice Arnautovic, l'intuito, il fiuto, mi dice Taremi. Staremo a vedere, quindi qualche cambiamento c'è, secondo me meno di quelli che ci sono, che un po' tutti si aspettano, ecco, perché è la prima partita, magari vai in gestione e inizia un male, perché non è, il Monza non è da sottolotare, era partito male, poi invece ha fatto molto bene a Firenze, era riacciuffato solo nel finale da Gosens, vediamo, 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 comunque anche questo è il bello, la rosa profonda, tante variabili da considerare, City e Milan sono ormai alle porte, ma si deve pensare al Monza, quindi è inutile che si fanno tanti discorsi, e poi ragazzi siamo a settembre, gente stanca a settembre, mi sembra un po' eccessivo, dai, un saluto.